Buonasera, insomma, spiace parlare dopo questa musica perché Gaber è stato uno dei più grandi cantautori italiani, è stato quello che ha anticipato anche dal punto di vista profetico come sarebbe diventata la nostra cultura italiana al di là delle divisioni destra e sinistra, è stato attaccato sia da destra di sinistra naturalmente quando tu attacchi le identità le identità si arrabbiano e poi se n'è andato con un tumore al pancreas come si va perché alla fine siamo mortali e questa cosa ce la dimentichiamo ma finiamo in quella direzione perché perché non si muore perché ci si ammala ci si ammala perché fondamentalmente bisogna morire si tratta di scegliere la strada la libertà anche qui la tesi che vorrei illustrare senza nessuna pretesa di persuadervi perché in tutte le cose che dico non ho mai preteso di persuadere nessuno anche perché non ci riesco è che la libertà non esiste però esiste l'idea di libertà e guardate che quando esiste un'idea l'idea fa storia per esempio nessuno sa se dio esiste in fondo nessuno l'ha mai visto però il fatto che esista l'idea di dio nasce una storia la storia di chi è persuaso che dio esiste mi raccomando le idee non stanno a raccontare la verità bisogna considerare dal punto di vista della loro efficacia storica se l'idea genera una storia questa idea va presa in considerazione allora libertà non esiste ma l'idea di libertà è esistita perché non esiste la libertà ma è perché noi chiamiamo libertà la condizione umana che è una condizione di indeterminatezza l'uomo è l'unico animale indeterminato perché non è codificato dagli istinti istinti sono un codice per cui la gazella appena nato sa quello che deve fare l'uomo non lo sa infatti ha bisogno di educazione una volta fino a 15 anni adesso fino a 30 poi magari oltre perché non ha codici e li va acquisendo gradatamente in quanto non ha istinti e questo è il problema dell'uomo con la parola istinto intendo una risposta rigida uno stimolo e la cosa che mi interessa sottolineare l'aggettivo rigida se io faccio vedere una bistecca una mucca la mucca non lo percepisce come cibo se gli faccio vedere un covone di fieno lo percepisce come cibo risposta rigida noi non abbiamo risposte rigide neanche l'istinto sessuale è rigido perché in presenza di una pulsione sessuale io posso dedicarmi a tutte le perversioni cosa che non sembra sia concessa agli animali posso fare l'amore anche con un tacco a spillo per dire una delle più elementari delle perversioni così come possa anche concedermi in presenza di una pulsione sessuale a fare delle opere d'arti o delle opere poetiche quello che fra ti chiama sublimazione della pulsione cosa che non sembra sia concessa agli animali non avendo noi gli istinti non è che lo dico io che gli uomini non hanno gli istinti l'ha detto per primo platone l'ha detto tommaso d'aquino l'ha detto canto detto herder l'ha detto niche nel novecento letto bergson l'ha detto gelen ma noi continuiamo a pensare nell'uomo e continuiamo a definirlo animale ragionevole quando dell'animale gli manca la prima caratteristica fondamentale che è l'istintualità noi non siamo animali ci manca proprio l'essenza dell'animalità che è l'istinto anche fra oltre all'inizio delle sue opere aveva parlava di istinti in tedesco instinct poi dopo ha abbandonato questa parola e si è messo a parlare di semplici pulsioni a meta indeterminata in tedesco trib vuol dire spinta generica a meta indeterminata e voi capite che una pulsione a meta indeterminata è diverso da un istinto che è sempre un istinto a meta ben determinata trovandosi allora a nascere in uno stato disarmonico con la natura perché gli animali sono armonici con la natura gli uomini hanno dovuto darsi delle regole per poter convivere e le prime regole sono stati i miti i miti sono dei racconti che spiegano che se tu ti trovi in quella situazione il mito te la descrive ti fa vedere il possibile esito positivo negativo un grande antropologo del dopoguerra che è venuto a lavorare e a studiare in basilicata ernesto de martino ci spiega che i miti sono delle meta storie per cui quando uno si trova in una difficoltà avendo una meta storia in cui si racconta come si può uscire da quella difficoltà o come ci si può perdere in quella difficoltà scegli il suo percorso anche il cristianesimo può essere considerato una meta storia che ti dà delle indicazioni e poi scegli tu se vuoi proseguire in una direzione in un'altra i miti poi sono stati concretati in riti la parola rito e la parola sanscrita che vuol dire ordine rito significa un elenco molto dettagliato delle cose che puoi fare delle cose che non devi fare pierre cluster che un antropologo francese era perché è morto giovane 37 anni studiando le tribù del sud america che ancora esistono nella foresta ha visto che in una tribù a capo di una tribù c'era una donna e allora chiesto come mai una donna a capo e gli hanno risposto perché suo padre gli ha insegnato a parlare parlare parlavano tutti ma saper parlare significava conoscere tutti i codici tutte le azioni proibite tutte quelle permesse questo lunghissimo elenco che recitato ogni sera dalle 5 alle 7 per ben due ore era una remorazione di quello che si poteva e non si poteva fare e allora questa donna incominciava dicendo le amache delle donne devono stare vicino alla terra perché la donna è come la terra perché genera le amache degli uomini devono essere sospese perché l'uomo è simile al cielo chi tocca l'arco se una donna tocca l'arco di un uomo deve passare dalla parte degli uomini se un uomo tocca un canestro deve passare dalla parte delle donne e via di seguito se poi qualcuno trasgredisce dei tabù più pesanti viene espulso dalla tribù e ci racconta questa volta non pierclastro ma levi strauss che quando c'erano queste espulsioni della tribù chi era espulso moriva in 48 ore non moriva di fame non moriva di sete in 48 ore si resiste moriva per disidentità non sapeva più chi era perché i primitivi non avevano un'identità individuale avevano un'identità di gruppo in quanto appartenenti a un totem fuori da questa appartenenza si disorientavano radicalmente morivano per disorientamento disorientamento che la stessa cosa che capita per esempio a persone che hanno alzheimer che si perdono ecco disorientamento probabilmente provocava queste situazioni in maniera improvvisa ed è fragrante miti ritti e poi alla fine codici razionali nel tentativo istituzioni perché gli uomini hanno costruito istituzioni le istituzioni sono essenziali perché gli uomini non hanno istinti e non avendo istinti gli mancano le regole del comportamento le istituzioni sono il tentativo più o meno riuscito di dare dei codici di comportamento le istituzioni sono importanti sono state ideate dall'uomo proprio perché l'uomo non è codificato allora si auto codifica attraverso l'istituzione platone descrive anche questo passaggio e dice che quando un certo giorno successe la megiste metabolè grande capovolgimento che dio abbandonò la tribù umana e gli uomini per che prima governava con il bastone come si governano le pecore e gli uomini per vivere dovettero darsi delle regole da soli e in questa maniera inventarono la politica la politica è una parola che viene dal greco polà che vuol dire molti come facciamo a convivere tra molti con molti attraverso regole istituzionali ecco questa è un po la storia dell'uomo attenzione allora che cos'è la libertà in un contesto di questo genere è il fatto di non avere istinti l'uomo è libero ma pericolosamente libero perché se esercita la sua libertà all'interno del mondo istituito dalle istituzioni va bene ma se la esercita anche fuori dal mondo istituzionale allora corre dei pericoli man mano che la società si fa evoluta e complessa però di fondo è la indeterminatezza per cui noi crediamo di essere liberi un'indeterminatezza che denuncia che non siamo dei viventi dei viventi armonici con la mano con la natura hanno geren parla dell'uomo come di un mangelvese di una natura carente carente di che cosa carente di istinti e quindi proprio per questa mancanza lui è in grado da un lato di vivere in qualsiasi punto della terra a differenza degli animali che possono vivere solo nel loro territorio perché fuori da quel territorio muoiono se io porto un leone al polo nord questo non sopravvivere questa plasticità dell'uomo se ce la fa a vivere ma poteva anche estinguersi nell'uomo come soggetto che non è difeso dalla sua istintualità questa cosa va tenuta ben presente non confondiamo la libertà con lo stato di indeterminazione con lo stato di non codificazione in cui l'uomo si trova queste cose greci e come al solito le avevano capite immediatamente non con non riconoscevano la libertà come una prerogativa umana per loro il mondo era regolato da una categoria potentissima che era la categoria della necessità che governava la natura la quale natura non era stata creata da nessun dio la natura era per il mondo greco quello sfondo immutabile che nessun uomo nessun dio fece sempre stata e sarà regolato da quella categoria forte che è la categoria della ananche la necessità voi dovete sapere che i greci usano le parole gutturali per indicare delle potenze su cui l'uomo non ha potere e delle parole labiali per indicare delle cose su cui l'uomo ha potere non so prendiamo la parola fuoco se il fuoco del focolare lo chiamano pur che è una espressione labiale da cui l'espressione piromane invece il fuoco del fulmine su cui non abbiamo potere quello è ignos da cui igno ananche sentite che è tutta una parola gutturale e la parola gutturale è una parola d'angoscia è uno strozzamento è dove non c'è potere dell'uomo bene i greci ritengono che la natura sia regolata da leggi immutabili l'uomo è ospite della natura al pari di tutte le cose nasce, cresce e muore e soprattutto questa categoria della morte che non prevede delle speranze ultraterrene è tale che i greci pur avendo due parole per dire uomo antropos e aner non le usano quasi mai all'epoca di Omero usano la parola brotos che vuol dire colui che è destinato a morire e all'epoca di Platone usano la parola tsenetos, tsanatos il mortale in grecia quando parla degli uomini parla dei mortali in questo scenario della morte che è la grande intuizione greca che costituisce il limite potente e indiscutibile della vita a partire da lì costruiscono un'etica del limite etica del limite significa come dice Platone riprendendo due motti dell'oracolo di Delfi conosci te stesso e quando hai conosciuto la tua virtù realizzala katametron secondo misura non oltrepassare il limite perché se oltrepassi il limite prepari la tua sciagura la tua rovina magari sei un attore ma non sarai bravo non lo so come Alain Delono o chiunque di quelli famosi allora se tu tenti di oltrepassare il tuo limite prepari la rovina questa cultura del limite la si vede anche nell'arte greca che non avrebbe mai fatto i bronzi di riace perché sono oltre ogni limite umano nella loro dimensione e questa considerazione del limite è la figura la grande figura che noi dovremmo recuperare dal mondo greco noi che viviamo una civiltà dell'illimitato dell'omnipotente abbiamo abolito lo spazio abbiamo abolito il tempo l'informatica ha creato queste condizioni di assenza totale del limite la tecnica che desidera sempre di più se stessa e ci ha portato al di là di ogni misura umana e purtroppo noi finiremo molto male perché abbiamo perso questa saggezza, sapienza greca il mondo cristiano è stato il mondo greco è finito ha vinto la partita il mondo giudaico cristiano perché come dice giustamente Nietzsche il cristianesimo ha avuto quel colpo di genio dice Nietzsche di dire ai mortali agli uomini voi non morirete mai così ha vinto il cristianesimo ma il cristianesimo è stato lui il grande il grande scenario della libertà perché la natura non è quello sfondo immutabile che nessun uomo nessun dio fece che ospita uomini e dei la tradizione cristiana invece la natura è una creatura di dio è come tale è buona se voi leggete il Genesi alla fine di ogni giornata dio si compiace con se stesso e vide l'oim che ciò era buono e allora crea prima gli astri poi crea il mare crea la terra crea gli animali e ogni giorno dice vide l'oim che ciò era buono la natura è buona tant'è che anche Leopardi che non era proprio un cristiano cade anche lui in questa visione cristiana delle cose e dice ai natura natura perché non rendi poi quel che prometti allora perché di tanto inganni i figli tuoi la natura non ti ha promesso niente perché è assolutamente indifferente alla condizione umana e quindi non ti ha neanche ingannato non avendo promesso niente ma lui vive ancora la condizione cristiana la concezione cristiana secondo cui la natura è buona perché è creata da Dio poi Dio quindi la natura è il prodotto di una volontà questo è molto importante non è caratterizzata dalla necessità ma è il prodotto di una volontà e quando si introduce alla volontà la natura poteva esserci ma poteva anche non esserci il suo accadimento è stato un atto libero di Dio poi Dio cosa fa consegna la natura ad Adamo e la consegna sotto il sigillo del dominio sempre nel Genesi leggete dominerai sugli animali della terra sui volatili del cielo e sui pesci delle acque marine dominerai vi spiegate perché sotto input cristiano scienza e tecnica siano nate sostanzialmente in occidente perché è stato il cristianesimo a dare questa dimensione del dominio che la natura è qualcosa da dominare e le scienze tecniche sono nate sotto una spinta cristiana una potente spinta cristiana e quindi solamente in occidente anzi c'è Bacone che nel Novo Morgan dice che noi attraverso la scienza e la tecnica possiamo rimediare a tutire le conseguenze del peccato originale dice Bacone il peccato originale ha avuto come conseguenze la fatica del lavoro guadagnerà il pane col sudore della fronte e il dolore partorirà nel dolore lui dice con la scienza e con la tecnica ridurremo la fatica del lavoro e ridurremo il dolore quindi concorriamo alla redenzione dell'uomo cioè la scienza nasce come esatta esecuzione del messaggio cristiano bene questo uomo libero di dominare incomincia la sua storia che è la storia cristiana in cui tutti che ci ospita tutt'oggi siamo tutti cristiani anche gli atei non pensano gli atei di tirarsi fuori perché pensano esattamente come i cristiani pensano esattamente come i cristiani come pensa il cristianesimo pensa che il passato è male il peccato originale il presente è redenzione e il futuro è salvezza e come pensa la scienza è la stessa maniera del cristianesimo il passato è ignoranza il presente è ricerca il futuro è progresso anche Marx è un grande cristiano il passato è ingiustizia sociale il presente è rivoluzione il futuro è giustizia sulla terra anche Freud nonostante scriva un libro contro la religione dal titolo l'avvenire di un'illusione è profondamente cristiano pensa che il trauma i guai si producono nell'infanzia passato presente analisi futuro guarigione vedete il cristianesimo che carica ottimistica ha messo nella nostra cultura e questa carica ottimistica di questa carica ottimistica vivono anche gli atei che quindi sono cristiani e non lo sanno non basta dire Dio non esiste se poi dopo accogli tutta la visione teologica del tempo l'unico che ha capito queste cose è stato Nincel quando ha annunciato la morte di Dio l'ha annunciato in una maniera così tragica un giorno tu devi mettere in scena il capitolo 123 della Gaia Scienza Dio è morto e ad annunciarlo non sono gli atei dice non se ne faceva niente degli atei lo fa annunciare dal folle quando avete la macchina in folle non va più da nessuna parte né avanti né dietro il folle è colui che annuncia la morte di Dio e viene lì al mercato dove ci sono i mercanti cioè i mercati quella roba di cui oggi noi siamo schiavi e vittimi il mercato quindi non si può neanche più fare la rivoluzione perché non c'è più la lotta tra servo e padrone tra servo e signore perché sono tutte e due dalla stessa parte e hanno come controparte il mercato come fai a fare la guerra al mercato queste cose dovete pensarle a Dio buono soprattutto i giovani rassegnati navi e poveretti non hanno alternative dunque stavo dicendo di questa dimensione di subordinazione a questi scenari un po' trascendenti che sono appunto il mercato la tecnica eccetera che sono l'esatta prosecuzione della dimensione teologica ma Nietzsche dice noi l'abbiamo ucciso abbiamo fatto il più grande delitto uccidendo Dio adesso non abbiamo più né un alto né un basso né una destra né una sinistra andiamo precipitando in un infinito nulla che cosa sono diventate ormai le chiese se non le tombe i sepolcri di Dio effettivamente questo annuncio poi dice mi capirete tra 50 anni noi ci abbiamo messo 130 anni un po' a ritardo secondo me tutti gli studenti precoci a capire cosa sta succedendo la filosofia purtroppo è profetica ma siccome non la si studia più nelle scuole tra un po' verrà eliminata adesso la si studia solo in Italia male in qualche liceo e però una volta che abbiamo eliminato le condizioni per allenarsi a pensare non è che facciamo una bella cosa non facciamo proprio per niente una bella cosa andiamo avanti il cristianesimo il cristianesimo è il cantore della libertà al cristianesimo va riconosciuto va riconosciuto quello che viene attribuito alla rivoluzione francese cosa dice la rivoluzione francese libertè galitè fraternitè libertè prima di tutto l'ha detto il cristianesimo non ci devono essere né liberi né schiavi siamo tutti liberi in quanto figli di Dio e galitè non ci deve essere né ricco né povero perché siamo tutti immagini di Dio fraternité è la categoria della carità il cristianesimo le aveva già dette chiaramente queste cose poi non le aveva messe in pratica e bisognava ripetere 17 secoli dopo con la rivoluzione francese ma perché ci tiene tanto alla libertà il cristianesimo perché attraverso la libertà se tu sei libero sei anche responsabile e se sei responsabile sei punibile e quindi quello che interessa è che io ti possa punire se trasgradisci ma per poterti punire devo ritenerti responsabile delle tue azioni e per ritenerti responsabile delle tue azioni ti devo ritenere libero quando nel 1500 Martin Lutero ha detto che noi non ci salviamo con le nostre azioni ma ci salviamo grazie alla predestinazione quindi a prescindere dalle nostre azioni se Dio ha deciso che ci salviamo ci salviamo se ha deciso che ci danniamo ci danniamo quando le nostre azioni sono in incidenti non incidenti in ordine alla salvezza gli umanisti italiani che avevano capito tutto hanno chiamato Martin Lutero Martinus Eleuterius Eleuteria in greco vuol dire libertà Martino il liberatore colui che ci aveva liberato dalla libertà dalla responsabilità e quindi dalla punibilità questa cultura cristiana che l'uomo è libero perciò responsabile perciò punibile è stato il fondamento il fondamento di tutto l'ordine giuridico europeo se voi ci fate caso l'ordine giuridico europeo ti giudica a partire dalla intenzione della tua azione se tu avevi intenzione di ammazzare sei colpevole se invece hai ammazzato ma non avevi intenzione perché per sbaglio hai preso sotto uno il tuo giudizio non è più di colpevolezza ma il tuo delitto è colposo oppure intenzionale oppure pretra intenzionale cioè tutto scaturisce dall'intenzione con cui agisci presupponendo che la tua intenzione sia decisa dalla tua deliberazione cioè della tua libertà di muoverti in un modo piuttosto che in un altro e questa è stata una grande impresa la fondazione di tutto l'ordine giuridico europeo che ha costruito questo ordine giuridico che oggi come oggi non serve più a niente perché nell'età della tecnica non è interessante sapere che intenzione aveva Fermi o Oppenheimer quando hanno inventato la bomba atomica è molto più interessante sapere gli effetti della bomba atomica non ha nessun interesse sapere che intenzione avevano quelle che hanno inventato gli organismi geneticamente modificati è molto più interessante sapere che effetto fanno questi organismi cioè le azioni vanno considerate in ordine ai loro effetti non in base alle intenzioni con cui li produci questo è il grande passaggio segnalato da Max Weber nel 1910 l'etica della responsabilità tu rispondi degli effetti delle tue azioni non delle tue intenzioni che nessuno è in grado di scrutare che è difficile scrutare in interiore hominis no? va bene cristianesimo il diritto il diritto l'abbiamo detto prima si fonda appunto sul concetto di libertà partita dal diritto romano nel diritto romano c'erano i liberi chi erano i liberi? quelli che erano esonerati dal lavoro non male libertas a labore e chi erano quelli invece che non erano liberi quelli che dovevano lavorare tutta la vita per mangiare cioè gli schiavi se poi qualche schiavo era intelligente aveva una qualche virtù o poteva servire al padrone allora veniva in parte liberato e lo si chiamava liberto e così questa storia è andata avanti ancora per tutto il primo medioevo quanto gli inglesi hanno fatto la magna carta vengono da tutti omaggiati gli inglesi sono dei tedeschi andati a male diciamocelo chiaramente quando gli inglesi hanno fondato la magna carta nel 1383 e tutti quanti si vantano di questa prima costituzione europea eccetera il concetto di libertà enunciato dagli inglesi è libertas a legge la libertà dalla legge che era che era la prerogativa dei ricchi dei nobili libertas a legge un concetto che non è sparito perché anche noi abbiamo avuto degli esempi di gente al potere che cercavano la libertà dalla legge non la libertà nella legge ma dalla legge poi nel 1500 ci si è resi conto che questa libertas a legge non funzionava granché creava disparità sociali ma soprattutto non ha tutti i conflitti e allora si è pensato che sarebbe bene che tutti gli individui rinunciassero ad una fetta della loro libertà a favore dello Stato che non è una brutta cosa se uno mi offende io mi devo vendicare non è mica detto che la punizione che io infliggo a chi mi offende sia proporzionata all'offesa perché io sono carico di emotività essendo stato l'offeso allora è bene che un terzo che non è carico di emotività stabilisca la proporzione tra l'offesa e il risarcimento cose che i greci avevano già inventato con diche con il dicasterion eccetera ma poi sono state tutte dimenticate queste cose bene si conferisce una parte della libertà allo Stato e nasce l'assolutismo poi questa libertà viene riproposta dalla rizzazione francese la quale dice egalité, liberté, fraternité fraternité si è persa per strada ma è rimasto egalité, liberté con legalité si sono fondati i movimenti socialisti e poi comunisti sulla libertà si sono fondati quelli liberali e conservatori e infine Mas che dice ma la libertà rivendicata dalla rizzazione francese è una libertà solo formale nel senso che siamo tutti liberi siamo tutti liberi siamo tutti uguali però queste due cose non funzionano bene perché la vera uguaglianza è quella economica perché chi è ricco è più libero di chi è povero non bisognerebbe prima garantire l'uguaglianza e poi parliamo di libertà a partire da questo concetto di uguaglianza questo per quanto riguarda il diritto l'economia seguito pari pari oggi l'economia abbiamo accennato prima è strutturata in quella forma del mercato che è un'entità astratta sembra addirittura privo di passioni perché il prezzo delle merci viene deciso dall'incontro di due coordinate due assi cartesiane da una parte la domanda dall'altra l'offerta e il punto di incrocio stabilisce il prezzo più matematico e puro di così sotto certo profilo il mercato è anche più razionale delle altre forme di scambio perché prima del mercato come avveniva lo scambio o con le guerre ti porto via tutto oppure col furto oppure col dono non so voi quando vi fanno un dono che cosa provate io ho un disagio pazzesco perché il dono è una sfida i primitivi poi giocavano su questa cosa due tribù come facevano a belligerare tra di loro il re chiamava il capo dell'altra tribù e gli diceva guarda adesso ti faccio vedere io incendio 20 dei miei vascelli sei in grado di fare questa cosa e se quello era in grado doveva bruciare almeno 21 ma se non era in grado quella tribù diventava schiava della prima oppure io ti dono 100 donne sei in grado tu di fare l'equivalente le donne erano monete di scambio sempre state monete di scambio comunque anche oggi non è che abbiamo cambiato abbiamo chiamato i modi come dice bene Nisce mangiamo la differenza tra noi gli animali che facciamo le stesse cose che noi con coltere e la forchetta loro invece con il morso dei denti bene io ti do 100 donne sei in grado di fare l'analogo 100 donne è un dono ma nel dono c'è sempre una sfida questo sistema era diffuso in tutto il mondo perché abbiamo testimonianze dal Canada alle isole Trobrian dalle Filippine al Sud America ovunque gli antropologi hanno stabilito che questa cosa era potlac potlac che cosa voleva dire potlac vuol dire dispersione generalizzata dispendio totale far vedere la potenza attraverso il dispendio o il dispendio distruttivo o il dispendio oblativo doni cosa che non è finita neppure oggi no? e quando uno deve farsi vedere cosa fa compra l'Inter compra il Milan deve spendere oppure questa cosa qui è rimasta ancora in circolazione per esempio nella vendita delle cose all'asta dove le cose non hanno valore in quanto hanno un valore intrinseco ma in quanto sono appartenute a un soggetto quindi il gioco è tra le soggettività non è tra le oggettività delle cose che si scambiano sono i soggetti che si sfidano nel potlac nel gioco del dono e della distruzione totale il gioco è tra i soggetti e allora non so le scape di Merlin e Morro magari sono anche da risuolare però siccome sono di Merlin e Morro chissà cosa costano in un'asta e l'asta non è altro che la ripresa di questi comportamenti finché arrivano giustamente i greci e poi i romani i romani stabiliscono no qui ci vuole una regola se no distruggiamo il mondo e questa regola si chiama razio io ti do 5 capretti e tu mi dai un vitello il vitello è la razio equivalente ai 5 capretti la parola ragione non nasce in filosofia nasce in economia la razio redderazione dammi l'equivalente e lì comincia il mercato che è una forma razionale quindi una forma razionale rispetto rispetto al dono rispetto alla distruzione rispetto al furto rispetto alla guerra e anche il denaro non è una cosa oggi è diventata una cosa tremenda perché è generatore simbolico di tutti i valori ma all'inizio il denaro è stato quello che ha riscattato tante vite umane nel senso che il servo della gleba al padrone doveva dare tutta la sua vita dopo col denaro al padrone dava solo la sua prestazione che veniva remunerato col denaro e quindi era libero il denaro è stato un fattore di libertà perché prima invece tu dovevi donare tutto stesso al tuo signore e allora dobbiamo dire che l'economia è una forma razionale sì è una forma razionale so che voi dite sì ma il mercato è regolato da qualcuno non sono d'accordo ma siccome questo qualcuno nessuno lo vede si è resa impossibile la rivoluzione la rivoluzione non è che non ci sono più perché è crollata l'unione sovietica ecco perché sono crollate le ideologie come spiega bene Hegel le rivoluzioni sono possibili quando c'è il conflitto tra due volontà la volontà del servo e la volontà del signore 1968 simbolicamente il signore è Ragnelli il servo e la classe operaia conflitto tra due volontà oggi si osserva che il signore sono dalla stessa parte e e hanno come controparte il mercato come fai a prendertela col mercato e quindi la lotta di classe è finita c'è ancora qualcuno che pensi che ci sia ancora lavorando con categorie del novecento ma è finita è finita per questo perché con la globalizzazione il mercato è diventato la controparte sia dei servi che dei signori sia dei padroni che di quelli che ci lavorano e questo purtroppo è successo e allora all'interno di questo scenario il mercato il mercato è nessuno poi c'è un mio amico che si chiama Romano Madara che dice che Omero ci ha insegnato che nessuno è sempre il nome di qualcuno ma questo qualcuno non si sa chi è insomma come fai a individuarlo e di fronte alle regole di mercato ti devi assoggettare con la differenza che l'economia è una forma è la più alta forma di razionalità raggiunta ma non la più alta non la più alta ancora perché soffre ancora di una passione umana che è la passione per il denaro naturalmente in una economia razionale è la libertà non è che uno è libero di tenere aperta un'azienda che perde se il mercato dice che è fuori mercato dove va a finire la libertà non è libero di tenere sugli operai se non è più in grado di pagarli il mercato è una dimensione che decide la tua sorte punta a capo la tua libertà è semplicemente un adeguamento a quello che non puoi fare altro che così ma più radicale siccome il mercato c'è ancora questa passione umana che è la passione per il denaro invece c'è la tecnica che non ha nessuna passione non mi dilungo sulla tecnica perché ho già fatto con voi una conferenza da qualche parte dico solo due parole la tecnica non dovete pensare che la tecnica siano i telefonini il computer le automobili quella lì è tecnologia il terribile della tecnica non sono queste cose il terribile della tecnica è la sua razionalità una razionalità elementare ma prepotentissima che consiste in questo ce l'hanno spiegato bene la scuola di Francoforte che oggi nessuno più studia Orkheimer Marcuse Adorno anni 50 l'uomo ha una dimensione vorrei sapere chi lo legge oggi quel libro e la profezia di quello che saremmo diventati Eros e civiltà visto che ormai abbiamo tutto facciamo l'amore invece di lavorare tutta la vita per esempio ma non si leggono più questi grandi filosofi tedeschi scappati in America per via del nazismo eccetera e però hanno individuato questa ragione strumentale che è la ragione della tecnica raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi basta valori efficienza e produttività tu sei riconosciuto se rispondi a questi valori efficienza e produttività in una logica che prevede solo il massimo raggiungimento il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi che poi si applica anche a tutti gli apparecchi se voi ricordate una volta i telefonini hanno delle macchine grosse così che facevano una sola funzione che era quella di telefonare e poi sono diventate le macchine piccolissime dove fanno tutte le funzioni e magari rischiate anche di non riuscire più a telefonare ma però massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi questa è la logica una logica ferrea perché tutto ciò che è irrazionale la letteratura l'amore il dolore le passioni la follia tutto questo via 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 vuol dire non sono non rispondono alla logica dell'efficienza e della produttività nel rapporto uomo-computer ce l'abbiamo davanti tutti ma pensate che solo 30 anni fa non c'erano i computer che si viveva lo stesso oggi è un uomo-computer tutti quanti con computer non si può lavorare senza il computer davanti e nel rapporto uomo-macchina ormai la guida ce l'ha la macchina perché il computer non si ammala non si annoia ha una memoria che supera la nostra non resta mai gravido non va in ferie non litiga con la moglie o con il marito e non ha sbalzi di umore e tu caro operatore devi essere il più possibile vicino a quel modello devi diventare gradatamente come lui devi diventare un funzionario di un apparato tecnico e se non lo diventi ne va della tua identità perché chi ti dà l'identità? noi l'identità ce l'abbiamo da riconoscimento l'identità non è che ce l'abbiamo addosso perché nasciamo non abbiamo addosso niente quando nasciamo neanche i vestiti ce li devono mettere compresa l'identità l'identità è il prodotto da riconoscimento state attenti insegnanti se ce n'è qualcuno a comportarvi con i vostri studenti guardate che la loro identità dipende dal vostro riconoscimento non parliamo dei genitori ma qua li sbagliano tutti perché nessuno li ha insegnato niente allora poi si mettono a fare i sindacalisti dei loro studenti ma vergogna dopo vengono su come dei bambini che devono essere sempre difesi non sanno mai prendere più una decisione con le loro mani torniamo all'identità riconoscimento in età della tecnica riconoscimento te la dà il riconoscimento te lo dà l'apparato te lo dà l'apparato di appartenenza riconoscimento te lo dà l'apparato di appartenenza per cui se sali in carriera la tua identità viene riconosciuta se scende in carriera la tua identità viene disinvestita ai tuoi stessi occhi quindi la nostra identità non dipende più da quello che siamo ma dipende da quello che ci riconosce è l'apparato di appartenenza vi rendete conto che roba tremenda questa la tua libertà non dipende più da te ma dipende dal tuo ruolo sapete cosa vuol dire ruolo ruolo viene da rotulum che era il rotolo che si sciorinava davanti nel teatro romano il rotolo che girava e gli attori leggevano quello che c'era scritto ruolo è questo è la parte che ti spetta tu devi recitare la parte che vuole l'apparato non il tuo non la tua parte perché tu sei visualizzato solo come funzionario dell'apparato ma io ho anche delle idee attenzione le tue idee allora nascono addirittura delle psicologie le psicologie che se tu non vai tanto d'accordo con il tuo apparato ti mettono a posto la testa perché se non vai d'accordo rischi rischi licenziamento rischi intenzione perché oggi siamo diventati tutti immorali possiamo permetterci tutto a livello morale perché la morale perché la morale non conta più niente perché è arrivata un'istanza più forte della morale che è la tecnica perché la morale se fai peccato ti perdona ma la tecnica se non sei efficiente produttivo ti licenzia e quando vai fuori dall'apparato tecnico e dalla società tecnologica vai fuori dalla società e assapore per il tempo che ti rimane la tua assoluta insignificanza sociale e allora di fronte a una sanzione così pesante chiaro che siamo tutti ben allineati e composti la morale è una cosa una rete a maglie così larghe che potevamo giocarci dentro quanto volevamo ma con la tecnica no con la sua razionalità no no e allora diventa radicale quella scissione tra pubblico e privato voi vivete in meridione forse questa scissione non l'avete ancora del tutto assaporata nel senso che avete una capacità di comunicazione che noi del nord neanche ci sogniamo non sappiamo neanche più parlare non ci si incontra mai al massimo se ci si incontra sono per le colazioni di lavoro cioè per il lavoro ma non certamente per stare insieme ecco voi ancora ma questa distinzione tra pubblico e privato sta a dire che tu privatamente puoi fare quello che vuoi puoi drogarti puoi parte l'amante puoi fare quello che vuoi puoi uccidere persino la moglie ma nel pubblico tu a lunedì devi essere lì giusto in quella casella giusto ed essere produttivo che tu sia nel lavoro manuale che tu sia nello studio di un avvocato o nello studio di un notaio o nella burocrazia tu devi essere lì e la tua responsabilità non dipende da chi ti sta di fronte ti sta chiedendo qualcosa ma la tua responsabilità funziona solo nei confronti del tuo superiore esattamente come i nazisti quante volte voi siete andati a uno sportello avete chiesto una spiegazione e vi hanno risposto ah non è nella mia competenza non è nel mio mansionario nel pubblico ecco allora che cosa succede che tu devi operare una leggera schizofrenia tra te e il tuo funzionamento devi creare una doppia soggettività schizofrenia è una malattia bestiale ma qual è il nucleo di questa malattia la scissione della personalità e tu devi essere scisso una schizofrenia che ho chiamato in un mio libro schizofrenia funzionale per vivere oggi devi essere un po' schizofrenico metti giacca e cravatta a lunedì e te la togli il venerdì sera simbolicamente e metaforicamente devi funzionare in base alle esigenze dell'apparato per cinque giorni alla settimana e poi fai quello che vuoi se sei ancora capace se ancora ti ricordi di te se ancora hai una memoria di te se ancora sei interessato a te e io penso che anche questo interesse viene meno e ciascuno scappa da se stesso come del peggior nemico perché non si ritrova più guardate non sto dipingendo una situazione tragica voi forse la sentite di meno noi al nord molto di più è una situazione più metropolitana che di villaggio ma è il futuro è il futuro è il futuro al punto che se Freud ci ha insegnato che dentro di noi c'è un inconscio pulsionale è un inconscio sociale adesso si è aggiunto anche un inconscio tecnologico secondo me dentro di noi un inconscio tecnologico che consiste nel fatto che questa razionalità ci è penetrata dentro ed è diventata anche la misura della nostra valutazione delle persone che già stanno accanto una volta si era accanto dei compagni di lavoro che erano compagni di lavoro adesso invece sono dei competitori perché se lui è più bravo di me più efficiente di me lui manterrà il suo posto di lavoro ma io no e allora è guerra è guerra anche così a distanza di un metro abbiamo perso l'amicizia abbiamo perso la solidarietà perché la logica della tecnica ti pone questo tipo di mentalità come si è arrivati a questo? attraverso una procedura in cui si sono incrociati stanze di sinistra e stanze di destra nel 1968 la sinistra ha messo in circolazione concetti anche molto carini e simpatici tipo non so la famiglia una camera a gas la scuola è una galera una caserma la legge è una è una prepotenza vietato vietare questa mentalità che ha creato anche dei vantaggi per esempio la liberazione della donna è cominciata lì a partire da questo vietato vietare ma questo vietato vietare è diventato anche il motto della cultura americana che è subentrata tu puoi fare quello che vuoi nulla ti è proibito io non ti misuro sulla tua etica non ti misuro sul tuo valore personale io ti misuro solamente sulla tua capacità di raggiungere il massimo degli obiettivi e allora il massimo degli obiettivi tenendo conto che ogni anno questi obiettivi si alzano un pochino l'asticella e nasce una forma di depressione assolutamente sconosciuta ai manuali di psichiatria perché ancora oggi se aprite un manuale di psichiatria la depressione è organizzata intorno ai sensi di colpa a cui non si riesce a porre rimedio che riguardano il passato assolutamente inoltrepassabile adesso invece non c'è più il senso di colpo perché non c'è più una morale che ti colpevolizza oggi il senso la depressione è organizzata sul senso di inadeguatezza il gioco non è più tra permesso e proibito il gioco è ce la faccio o non ce la faccio perché se non ce la faccio sono sorci verdi quindi insonnia tensione non c'è più radio di lavoro si va avanti a lavorare anche a casa c'è una bella canzone di Gabber una carezza ai figli e poi vai basta tutto lì rapporto paterno un disastro ma ci stiamo avviando a grandi passi nell'assoluta incoscienza che questa logica ci farà diventare disumani perché l'uomo ha questo di caratteristico che oltre alla ragione ha anche tutta la dimensione irrazionale di cui sostanzialmente ci alimentiamo e di cui siamo completamente felici di averla è la dimensione dell'amore la dimensione dello sguardo della pietà della compassione della gioia dell'esaltazione e tutta questa roba qua non c'entra con l'efficienza e però che l'umanesimo è finito non è una cosa che vi racconto io oggi nel 2016 ce l'ha raccontata Spengler ce l'ha raccontata Heidegger ce l'ha raccontata Jasper ce l'ha raccontata Gunther Anders è finito l'impianto umanistico e la scuola ce la mette tutta per farla finire riempiendo le aule di computer invece che di maestri questa è una collaborazione della scuola alla fine dell'umanesimo tenendo conto poi che quello che interessa fino a 18 anni è la formazione dell'uomo e che la si smetta di pensare e di chiedere ai bambini cosa farà e dei grandi la scuola deve essere pensata in vista di una professione deve essere pensata in vista di una formazione ma ci credono alla formazione e ribellatevi questi ministeri che non fanno altro che disastri ribellatevi non fate le cose che non sentite che appartengono ai vostri processi educativi vabbè ma poi dopo magari tanti professori non so neanche all'altezza di quello che fanno vabbè fermiamoci qui per adesso l'unico spazio libero usiamo questa parola libertà finalmente è l'amore ed è così libero che dura poco nel senso che anche l'amore una volta era codificato i ricchi non erano liberi di sposare chi volevano perché dietro i ricchi c'erano i patrimoni quindi i matrimoni funzionavano in vista dei patrimoni da non spartire ma da accumulare e i poveri i poveri non potevano divorziare a far cose dovevano mettere al mondo figli per avere braccia lavorative fare famiglia nella maniera tradizionale io stesso nato in una famiglia poverissima sono il fratello di nove fratelli quindi siamo in dieci dieci figli perché è così insomma si riusciva a tirare avanti con qualche problema però ecco l'amore non è mai stato libero è sempre stato codificato ancora oggi nel mondo musulmano è codificato ma noi dal mondo musulmano non è che ci siamo allontanati granché solo 50 anni fa dai non so se vi ricordate come vestivano le nostre nonne esattamente come si vettono le donne arabe io stesso che andavo all'università cattolica mi ricordo benissimo che le ragazze portavano i grembiuli lungo fino ai piedi lungo fino ai piedi e non potevano c'erano i cartelli che non potevano sedersi sui moretti se no si vedevano le ginocchia ma dai non siamo lontanissimi da quel mondo che oggi guardiamo con l'area di superiorità perché andiamo in giro tutti nudi ancora nel 1969 io insegnavo in una scuola magistrale di Lecco no di Como e venivano espulse con espulsioni per una settimana i ragazzi che venivano a scuola con i pantaloni oh 1969 dai ecco abbiamo memoria corta noi i vecchi vanno ascoltati almeno come repertorio di una memoria di quando non eravate ancora nati va bene chiudiamo con una considerazione piccole considerazioni che finalmente cercano di convincere che la libertà non c'è prima considerazione il nostro Arturo Schopenhauer ci ha detto che noi abbiamo due soggettività uno è la legge della specie che ci prevede nasci cresci procrei muori come tutte le cose e questa è la vita della natura Schopenhauer dice il soggetto del gran sogno della vita è uno soltanto la volontà di vivere la natura vuole semplicemente vivere senza ragione e senza perché vi chiedete la ragione perché tra il marciapiede e la strada cresce l'erba se c'è una fessura non c'è nessuna ragione ci sono le condizioni di vita e quindi la vita esplode vi chiedete perché in una montagna rocciosa ogni tanto vedete un albero perché c'è un pochino di terra e c'è l'umidità della notte dove ci sono le condizioni di vita si vive e Schopenhauer racconta appunto questa volontà di vita non avendo alcuna ragione la chiama volontà irrazionale e Goethe prima di Schopenhauer parla della natura come di una grande danzatrice attaccata alle sue mani ci siamo noi uomini e donne e lei assolutamente in memore nella sua danza sfrenata ci fa cadere senza fedeltà e senza memoria alla natura di noi non importa niente altrimenti se non la nostra capacità di procreare che serve alla sua economia non alla nostra tra la soggettività intorno alla quale attraverso con la quale noi viviamo quella che dice io tutti i giorni io voglio io desidero io amo che si pone dei progetti degli obiettivi dei sogni questa soggettività con cui noi viviamo è veramente una grande illusione è un gioco degli specchi è un gioco di maschere perché la barra della nostra vita la tiene la natura la quale ci fornisce di sessualità e di aggressività per un certo periodo della nostra vita la sessualità per la procreazione l'aggressività per la difesa della prole e per l'autodistruzione poi basta ma poi non serviamo più non a caso l'uomo era programmato per 40-50 anni adesso grazie alla medicina portiamo fino a 100 per assistere a che cosa a un prolungamento della vita no per assistere solo ai guai perpetrati della vecchiaia che è una schifezza e allora c'è questo gioco a medicina è davvero responsabile di tutte queste perché non morire belli come gli eroi greci che lasciavano un bel cadavere invece di morire in quella modalità che ci capita di dover morire per non poter più vivere ecco allora questa questa doppia soggettività poi c'è il mondo come rappresentazione che è il mondo dell'io siamo noi che non accettando di essere dei funzionali della specie e basta ci inganniamo attraverso i nostri progetti i nostri sogni le nostre cose questa idea di Schopenhauer viene accolta da Freud il quale assume Schopenhauer come suo precursore e dice chiaro bello profondo l'io non è padrone in casa propria infatti ci sono le esigenze della specie per un esempio molto semplice prendete una donna e guardate il suo profilo dal punto di vista dell'io e dal punto di vista della specie questa donna mette al mondo il figlio e allora deve mettere in gioco la trasformazione del suo corpo il trauma della nascita la soppressione del suo tempo la disponibilità continua in interrotta per l'allattamento e la cura infantile dal punto di vista del suo io è una perdita secca ma per la specie è la condizione della sua vita della sua della specie e questo disidio c'è questa lacerazione c'è e quando le mamme odiano anche i figli io le capisco benissimo il mito dell'amore materno è una brutta storia è una storia che colpovolizza le donne le donne amano i figli ma li odiano anche anche il linguaggio ti mangerei ti ammazzerei che cosa dice questo linguaggio che c'è anche dell'aggressività con questa persona che ti ha portato via sostanzialmente tutto no? non so io cos'è sto andiamo avanti ecco per dirvi questa contraddizione tra Nice che era molto amico dei greci e che ha scritto quel libro bellissimo Nascita la tragedia si rende ben conto di questa cosa e quando Nice considera Schopenhauer il suo educatore si rende ben conto che noi siamo decisi dalla natura e non siamo decisi dal nostro io e e nella Nascita la tragedia fa un piccolo teatrino tra Remida che incontra Sileno il satiro mezzo uomo e mezzo caprone e Remida dice dimmi qual è la cosa più desiderabile e onorabile per l'uomo e Sileno lo guarda e dice lo guarda e comincia stirpe miserabile ed effimera miserabile ed effimera la stirpe umana figlio del caso e della pena nasciamo per caso in mezzo al dolore perché mi costringe a dirti cose che per te è vantaggioso non sapere meglio per te non essere nato e la cosa migliore che ti posso augurare è di morire presto perché perché l'uomo a differenza degli animali per vivere ha bisogno di costruire un senso e lo costruisce col suo io in vista della morte che è l'implosione di ogni senso Nietzsche dice incipi tragoedia questa è la dimensione tragica da cui siamo usciti grazie al cristianesimo a proposito del quale Nietzsche dice che ai tempi di Tiberio siamo quindi intorno al 30-33 dopo Cristo con Cristo che muore risorge quindi simbolicamente nasce il cristianesimo ai tempi di Tiberio i naviganti udirono il grande grido che urlava il grande Pan è morto Pan era il dio dei tragicoi dei pastori era il canto dei pastori la tragedia era il canto dei pastori i pastori sono i soggetti che pensano meno a se stessi perché vivendo a fianco degli animali e delle condizioni naturali si sentono più simili o comunque acquisiscono questa loro parentela col mondo naturale la tragedia nasce dal canto dei pastori e Pan era il dio della tragedia dice il grande Pan è morto e con lui è morta la tragedia che non è un genere letterario la tragedia è un evento solamente greco Carly Aspers in quelle 40 pagine che dedica al tragico dice che nulla in occidente può essere considerato tragico neanche Shakespeare per la semplice ragione che all'interno della cultura cristiana la tragedia è una finzione si possono raccontare cose tremende ma non c'è più l'essenza del tragico perché c'è comunque un rimedio se non altro nell'aldilà il cristianesimo ha abolito la dimensione tragica questo è stato un grosso vantaggio dal punto di vista della costruzione dell'occidente però la verità va riconosciuto chi ha ragione io sono greco dunque chiudiamo e Nietzsche poi conclude stemma della necessità ecco qui la figura greca della nanche stemma della necessità dell'essere costellazione suprema che nessun desiderio raggiunge io posso chiedere tutto quello che voglio desiderare tutto quello che voglio ma non raggiungo lo stemma della necessità che nessun desiderio raggiunge che nessun no contamina non ti puoi non puoi obiettare al destino il destino è ciò che sta fermo stemma della necessità dell'essere costellazione suprema che nessun desiderio raggiunge che nessun no contamina eterno sì dell'essere io sono eternamente il tuo sì ci si consegna questa dimensione di destino un destino che oggi anche la scienza ci viene a raccontare con la genetica la genetica ci dice che insomma non è che siamo proprio liberi neanche di morire come ci piacerebbe perché è già tutto codificato poi mi fanno ridere i genetisti perché siccome sanno che l'impatto finché lo dice finché lo dicono i greci che non siamo liberi dove poco importa ma se lo dice la scienza visto che tutti ci credono alla scienza e allora è più impressionante no allora i genetisti per non spaventarci troppo ci dicono ah sì d'accordo la genetica c'è siamo tutti codificati potremmo dire in anticipo fin dal terzo anno di vita di che cosa noi moriremo e quando però dicono i genetisti c'è l'ambiente che sarebbe lo spazio della libertà ma stiamo scherzando che l'ambiente è uno spazio libero e chi mi ha detto di nascere a me e perché sono nato in Lombardia e perché sono nato in una famiglia di dieci figli e come sono potuto arrangiarmi all'interno di questa dimensione padre morto madre vedova maestra elementare 60 mila lire al mese tutti a lavorare già da 8-9 anni perché e io mi sono costruito grazie a quell'ambiente in quella modalità che sono adesso se invece fosse cresciuto già professore universitario nella culla perché ci sono anche questi visto che ci sono leggevo oggi sul giornale 7 mila professori figli di professori e allora sarei cresciuti in un altro ambiente perché l'ambiente non codifica secondo i genetisti ma per Dio si codifica l'ambiente come no in una maniera pazzesca quindi siamo codificati e dalla genetica e dall'ambiente mi ricordo una che in Germania una decina di anni fa un giudice aveva dato una pena miserabile proprio poco poco aveva punito un sardo che lavorava in fabbrica e aveva ucciso un suo compagno di lavoro e la motivazione della sentenza è che lui gli dava una pena modesta perché era sardo naturalmente i sardi sono incazzati ma in realtà aveva ragione il giudice il quale diceva se questo qui è cresciuto sulle montagne della Sardegna a contatto solo con le pecore non ha gli strumenti per capire seriamente veramente che cosa significa ammazzare e come si può risolvere le cose senza il coltello attraverso le parole non ha questa strumentazione il suo ambiente non gliela data questa strumentazione quindi non è fin in fondo colpevole e qui comincia a smantellarsi quel concetto che siamo liberi e quindi colpevoli liberi da che Freud ci dice che entro i tre anni si formano definitivamente le nostre mappe cognitive ed emotive oh entro i primi tre anni cognitive vuol dire che il nostro modo di conoscere sarà deciso dal modo con cui si sono formate queste mappe il nostro modo di sentire sarà deciso dal modo con cui si sono formate queste mappe no Freud diceva entro sei anni le neuroscienze dicono entro tre anni e allora che cure hanno i nostri bambini oggi loro fanno vedere come sentono il mondo attraverso i loro disegni cosa rispondono i genitori rispondono te li guardo domani adesso non ho tempo cioè mai e quando chiedono delle cose quando cominciano a cercare i nessi causali per poter codificare il mondo con il loro perché e fanno delle domande filosofiche eh perché i genitori rispondono quando sarai grande capirai benissimo bisogna vedere come divento grande bene chiudiamo chiudo con un piccolo esempio una volta a Sartre è andato in montagna è caduto è arrivato in ospedale gli hanno incestato la gamba e va a trovare il suo amico Merleau Pontini e gli dice ma Jean Paul ma lo sai quella montagna lì è piena di rischi non potevi andare con una guida e Jean Paul Sartre dice secondo te Jean Paul cioè io vado in montagna con una guida no per quel che conosco io Sartre non è possibile questo cosa vuol dire questo che la tua identità confligge con l'ipotesi della tua libertà se tu sei Jean Paul Sartre non vai in montagna con una guida dovresti essere timoroso debole ma lui no lui è spregiudicato lui è un uomo del rischio quindi vada solo cade se non per la gamba perché è Jean Paul Sartre cioè voglio dire l'identità confligge con la libertà e io questo mi pare così semplice questa cosa non riesco a farla capire a nessuno la fiducia sociale dipende dal fatto che siccome ti conosco e conosco la tua identità di te mi fido cosa vuol dire mi fido ipotizzo che non puoi rubare ipotizzo che non puoi fare sceleratezze perché la tua identità non te lo consente tu sei quello lì che non fa sceleratezze e la fiducia sociale si fonda sul fatto che tu non sei libero perché la tua identità ti marchia e ti fa prevedere che il tuo comportamento sia quello che tu mostri se invece la tua identità oscilla allora nasce il dottor jack e le mister hide la doppia personalità allora lì probabilmente lì uno è libero ma però non ha più identità l'identità è incompatibile con la libertà punto e a capo e allora siccome l'identità ce l'abbiamo tutti non so andate a trovare voi un posto per dire che siete liberi ci fermiamo qua grazie